e ciao a tutti ragazzi e bentornati con il let's play di empire earth ce l'avamo lasciati con che dovevamo popolare questo centro cittadino perfetto infatti possiamo passare subito ci ha attaccato sono un po santini il nostro eroe era quello che curava e faceva il grido di battaglia il grido di battaglia è una mossa che non mi ricordo cosa fa tipo aumenta il valore in battaglia cioè aumenta il nostro e diminuisce il loro e comunque un po' di danni ce l'hanno fatti il nostro eroe è rimasto da solo ovviamente andiamo a micrare come si dice ovvero a porca ok abbiamo vinto a caro prezzo però ah cavolo ma avevo anche avevo anche la cavalleria me ne ero completamente dimenticato allora te cosa stavi facendo ah te eri del ferro 3 4 torna lì mentre te cibo quindi eri qui i vostri ordini dove dovrei andare riprendiamo la caserma e tracciamo un po' di unità dove dovrei andare allora i nostri eroi andiamo all'ospedale poi vediamo un po' ah ok siamo saliti di epoca alto medioevo ah niente qui niente qui andiamo a a fare l'upgrade della cavalleria qui arciere semplice si ci è rimasto qualcosa e che cazzo i vostri ordini che miseria parlo rinquadranno i regni nemici signore questo questo e questo qui manca un cittadino cittadini attivi no allora 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 te uno qui abbiamo poco cibo nonostante abbiamo cazzo anche questi sono già all'alto meglio dove dovrai andare il mio regno è vostro e il paradiso è la terra la grandezza non attende nessuno che fare che fare questi sono tre quattro cinque facciamo un altro cazzo sono tanti cazzo ci vanno male il culo dove dovrai andare ma la vedo mai alla ragazzi no i nostri alleati sono intervenuti grandi finalmente fanno qualcosa oddio non capiono affatto molto però ok altre unità in arrivo perfetto però questa sarebbe l'occasione buona per iniziare a decimare per iniziare a decimarle pronti mio signore attacco con acciaio affilato potrei andare a farciare un po' di attività dove dovrai andare per il trono andate qua potrei andare a vincularli da dietro e andare a farciare un po' di arciè queste tattiche altre unità amiche a dire che le nostre tattiche hanno successo sono moruti tutti bene abbiamo vinto torniamo dentro oh finalmente gli alleati servono a qualcosa andiamo tutti all'ospedale ok si si puoi continuare per fare unità no cazzo è più giocato cazzo è lì ancora 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 ok messo un cittadino in attivo qui c'è tutto ferro la roccia buono ferro andiamo a ricreare i due cittadini per la costruzione degli edifici come al nostro solito allora vediamo cosa possiamo costruire di nuovo per salire di epoca amore panchina qui abbiamo tutto tempio ospedale l'università l'abbiamo fatta ecco la ecco la riparazione delle navi in porta non ci serve un cazzo nulla si uccide si dimmi che popolazione si ok qua cosa si può fare da upgrade e come desiderate il mio signore acclamato è finito qui finito qui dove dovrai andare ok ok la nostra cavalleria si è rimpolpata un po' oh centro cittadino centro cittadino no un omicidio non so bene come salire di ecco no adesso che ti pareva da caricolare non scomodiamo tutte le truppe la gloria con grande piacere per Dio e la faccia oltre un profeta ok però spero barbariamente uccide vediamo 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 come cavolo adesso non so c'è tutte le cose che ci faccio tutte le cose bah facciamo la reazione del profeta tanto per gradire ma adesso non so veramente cosa diavolo dobbiamo fare ho fatto tutto una meraviglia boh iniziamo a fare le meraviglie che ti devo dire oltre di babilonia un versino di list dice pezzi mi metto nell'acqua auto per regione mura più resistenti questo è tipo sì la prima cosa da fare allora voi andate a riparare il macello che è successo prima vediamo un po' vediamo dove dovrai andare dove dovrai andare dobbiamo andare la batteria avanti ok signore voi siete da una perfetto però adesso direi che siamo inizi bene in quanto unità non so che la mente deve fare un'altra asia vediamo il tempio la riagrazione del tempio lo struiamo un altro qui tipo te quando hai finito devi parare dai qui no, accanto al coperno questo visce il secondo tempio boom 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 allora 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 eppure non so proprio cosa bisogna fare nemici in arrivo non c'era un'armida asserio però dobbiamo andare sì, certamente siamo sotto attacco ok ok sì, mio signore buono facciamo laggiù più lontan possibile dai nemici non c'è un'altra asia ma ok 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 l'insediamento sarà per forza l'insediamento dai tutto il giuro è sempre qualcosa cosa dove dovrai andare dove dovrai andare spendiamo ancora un po' di risorse ok ci pensano i nostri alleati ad esplorare e l'insediamento è fatto eccolo qua allora cibo oro e ferrabbiamo tutto tranne il cibo lo andiamo a risparmiare qui 3.800 beh l'unica è aspettare i vostri ordini nel frattempo cosa si può fare boh abbiamo fatto tutto forse non siamo andati ferma io direi anche un terzo cittadino a costruire non fa male questo sarà veramente in tocca sana torre nooo porca miseria siamo sotto attacco che deficiente ma che cazzo ho sbagliato infatti non mi sembrava strano oh accidente a me devo fare la porta di star come desiderate e dalle ceneri di una vecchia meraviglia ancora in costruzione nascerà una nuova morte mi sembra siamo sotto attacco eccoci Contro di loro manderemo la balleria. Per l'honore e la gloria. 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 Ok. Ma fra un po' la cavalleria non sarà così indispensabile. Andrò a sparire. Dove dovrai andare? Un mitico lanciapietre. Ancora in vita. Ah, una cosa che non vi ho fatto vedere è la possibilità di andare a zoomare nella nostra mappa di gioco. Dove dovrei andare? Per vedere i nostri personaggi da molto vicino. Ecco il nostro Carlo Magno. che guarisce le nostre truppe. Voglio vedere te. Voglio vedere la sua bellezza. Eh sì, adesso è quella. Allora. Dovremmo esserci. Alto Medioevo. Tagatagata. Poi. Area del Tempio. Università. Visibilità edifici. Area dell'università. Anche se non so minimamente a casa serva. Ospedale. Niente. Buono. C'è buono con modo di dire. Ok. Questa è di potenziamento. Non ce ne ho fatto niente. Questa è potenziamento. E il cresito del potenziamento. Abbiamo già fatto tutto, mi sembra. Oro. Ferdo. Aggiorna. Demura. I vostri ordini. Bene. Abbiamo fatto anche la porta di Easter. che ci dà una quantità esagerata di punti vita. Come vedete. Alle mura. Più 40.000. Quindi praticamente. Difficilmente andranno giù. Ok. Allora. Non possiamo costruire niente di nuovo. Quindi. Come ben sappiamo. Andiamo a popolare. Questo. E ne facciamo altri due. Siamo momentaneamente bloccato il gioco. Perchè fa l'autosave. Ed ecco le nostre truppe aggiornate. Allora. Si sta facendo un programma dei carceri. Oh. Il nostro alleato. Questa è la pazzica. Ricacciamo. I nostri due costruttori. Qui andiamo a popolare. Tac. Perfetto. E possiamo. Andare al rinascimento. Forse una dei miei. Periodi storici preferiti. Non solo in gioco. Ma. In generale. Del quale. Hassan's Creed ha aiutato parecchio. O il due ovviamente. E quindi. Niente ragazzi. Con l'avvento del medioevo. Ci possiamo salutare. Siamo già proiettati verso. Appunto il rinascimento. Qui sta andando tutto. Abbastanza bene. Quindi. Niente. La MrL92 è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.